Ovviamente la situazione non è propriamente fluida, però Salvini è stato estremamente chiaro, noi aspettiamo l'incarico da parte ovviamente di Mattarella. Io un po' sorridevo sentendo il ragionamento fatto da Di Maio, cioè non si vincono le elezioni con il 30%, per carità non si vincono neppure con il 37%, però in realtà il centro-destra è quello che è davanti e ha ottenuto il risultato migliore. Bisogna ricordare ogni tanto al Movimento 5 Stelle che la legge elettorale era estremamente chiara, è una legge elettorale che premiava le coalizioni e quindi non i singoli partiti. Dopo ognuno, insomma, uno tira un po' dalla parte propria e tireranno la giacchetta di Mattarella dalla propria parte, però in realtà l'incarico va dato al centro-destra e mi pare che il chiarimento ci sia stato anche ieri sera, nel senso che Salvini sarà quello che... Sì, ieri sera gli hanno detto che sarai tu l'esploratore, però poche ore dopo è successo quello che dicevo prima di Salvini che esclude categoricamente possibili accordi con il Partito Democratico, mentre Berlusconi dice che convinceremo anche Salvini a trovare... Ma guardi, direttore, ma è anche la nostra base, perché chi fa parte del Movimento da tanti anni come sottoscritto sa benissimo che la nostra base digirerebbe in maniera molto indigesta un accordo con il Partito Democratico. Lo vedo molto difficile, siamo proprio agli antipodi, cioè un accordo di questo tipo. Noi siamo stati lunedì alla nostra segreteria federale, insomma è anche là, insomma tra il gruppo dirigente, tutti quanti non vedono bene un accordo con il PD. Siamo su posizioni e su internet, perché dopo alla fine verranno fuori i temi, no? Perché per carità un governo si deve fare, però anche noi, noi siamo disponibili a fare un governo con chi non la pensa come noi. Siamo in un punto anche focale, la gente vuole delle risposte. Ci sono 4-5 argomenti, il tema della sicurezza, il tema della flat tax, del cuneo fiscale. Ci sono delle importanti iniziative che vanno prese e siamo agli antipodi. Non la pensiamo al stesso modo. Lo vedrei poi tra l'altro che Moretto è naturale, no? Un appoggio del Partito Democratico al centro-destra a Guida Salvini. Tra l'altro, uno diceva appunto difficile da digerire per loro. Ci mettiamo Tajani ancora ancora, però con Salvini. E poi chiudendo, c'è chi ha vinto le elezioni e chi le ha perse in maniera eclatante. Quindi insomma l'indicazione da parte, una cosa dico per chi ci ascolta da casa. I sondaggi di questa settimana danno una risposta veramente interessante che è questa. La Lega e i 5 Stelle, se andassero al voto adesso, prenderebbero minimo 5 punti a testa in più. Quindi vuol dire che c'è anche un trend di un certo tipo.